All'interno del Centro Diagnostico Italiano possiamo offrire oltre 40 specialità mediche. Questo permette di offrire alla popolazione tutte quelle che possono essere le necessità, prestazioni sanitarie o accertamenti diagnostici che sono necessari a eseguire. All'interno di queste 40 specialità segnalerei in particolare il reparto di cardiologia che attraverso una alta tecnologia permette di svolgere innumerevoli prestazioni sia di primo livello che di secondo livello. Segnalerei il reparto di oculistica perché oltre a numerose prestazioni sanitarie permette anche di svolgere interventi chirurgici sia sulle patologie refrattive che sulle patologie retiniche o corneali. Segnalerei il reparto di ortopedia che è caratterizzato da team specialistici per i singoli organi polidistrettuali per cui abbiamo team specialistici per la colonna, per la spalla, per il ginocchio, per il piede, la mano. Non ultimo segnalerei i reparti di odontoiatria e fisioterapia che sono caratterizzati da una multidisciplinarità sia diagnostica che terapeutica. e il reparto urologico che si è dotato recentemente di ulteriore innovazione attraverso la risonanza prostatica multiparametrica e l'uronavigatore che permette di svolgere quindi delle biopsie mirate di tipo robotico. Al centro di diagnosco italiano i check-up sono personalizzati, quindi fatti su misura per il singolo soggetto. Ne facciamo circa 10.000 in un anno e sono caratterizzati nel primo momento dalla visita internistica e quindi l'internista svolge la figura di tutor in tutto il percorso che poi il soggetto esegue e quindi in base alla storia clinica si individuano tutti gli accertamenti necessari per avere una valutazione globale clinica a 360 gradi. Tutti questi accertamenti vengono poi eseguiti all'interno della stessa giornata nell'arco di 4 massimo 5 ore e permettono quindi al termine del percorso di avere una valutazione globale e permettono quindi di dare le indicazioni clinico-terapeutiche e diagnostiche al soggetto proprio per mantenere il suo buon livello di salute. Un ulteriore valore aggiunto che diamo al soggetto è rappresentato dal numero di cellulare del tutor che ha seguito quindi il soggetto stesso per qualsiasi problematica che può nascere nell'arco dell'anno. Lo stesso vale per alcuni percorsi settoriali che abbiamo introdotto recentemente, soprattutto di tipo cardiovascolare o rivolto alle donne, nel qual caso il tutor sarà un cardiologo o un ginecologo a seconda del percorso naturalmente che si sceglie.